Presidente, ci parla del progetto Siena Carbon Free 2015? Sì, per noi è un progetto strategico, di grandissimo valore, che rappresenta una delle nuove frontiere con le quali si sta misurando la provincia di Siena. È un progetto che ha un doppio valore, da una parte un valore ambientale straordinario, dall'altra un valore economico. Ovviamente l'obiettivo qual è? È quello di arrivare nel 2015 ad avere un bilancio a saldo zero di emissioni di CO2 in atmosfera, che significa che la somma delle emissioni dovrà diventare uguale alla somma della capacità di assorbimento della CO2 che la provincia di Siena riesce ad esprimere. Siamo partiti con questo progetto alcuni anni fa, eravamo attorno al 70% della capacità di assorbimento, ora siamo oltre l'80%, quindi abbiamo fatto passi avanti importanti e ovviamente resta da fare l'ultimo tragitto, l'ultima parte di strada, che è quella più difficile, perché riuscire a migliorare la capacità di assorbimento di un 15-20% ulteriore in 3-4 anni è una sfida estremamente complessa, estremamente ambiziosa, però noi vogliamo mettercela tutta per raggiungere questo obiettivo. Quindi dicevo, valore ambientale, perché si riducono le emissioni, si migliora la qualità dell'ambiente, la qualità dell'aria e quindi la qualità della vita dei cittadini e siccome Siena è una realtà dove si vive bene, vogliamo che anche in futuro si continui a vivere bene e quindi vogliamo preservare la qualità dell'ambiente, la qualità della vita delle persone che vivono in provincia di Siena. Il secondo aspetto è economico, perché le azioni che si mettono in campo per arrivare a raggiungere l'obiettivo del Carbon Free 2015 e quindi del saldo zero di emissioni di CO2, implicano anche nuove opportunità per l'economia, per le imprese, nuove opportunità occupazionali. Qui ci stiamo misurando su tanti fronti, dalla promozione delle diverse modalità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dall'efficientamento energetico, da azioni di rimboschimento, tutta una serie di azioni che chiaramente muovono anche l'economia creano nuove occasioni di sviluppo. Faccio solo un esempio, con gli incentivi che abbiamo dato per i piccoli impianti fotovoltaici ne sono stati realizzati circa 400 grazie agli incentivi della provincia, noi abbiamo avuto un fattore di moltiplicazione pari a 10, cioè ogni euro di incentivo dato ha prodotto 10 euro di investimento. Questo dà l'idea che Carbon Free è importante per l'ambiente, è importante per la qualità della vita dei cittadini, ma Carbon Free può diventare anche uno dei nuovi motore di sviluppo della provincia di Siena. Nell'ambito del progetto Siena Carbon Free, quali sono state le iniziative di APEA? APEA affronta molteplici progetti che spaziano in tutti i campi sulle energie rinnovabili, sulla diminuzione delle emissioni climalteranti e quelli più legati al tema dell'energia, che poi è il tema di questa settimana, riguardano principalmente, tra l'altro li potrete anche vedere schematicamente riassunti nella mostra permanente qui accanto, la campagna Caldaia Sicure, sul controllo degli impianti termici, la funzione di energy management che svolge nei confronti dei propri soci, gli sportelli energia, la gestione del bando del fotovoltaico per i privati, per impianti di piccola taglia, e poi anche il censimento delle potenzialità energetiche delle aree pubbliche e quindi dei vari comuni. Il 26% sul totale delle emissioni climalteranti in atmosfera è generato dagli impianti termici. Noi abbiamo l'incarico da parte della provincia di Siena, del comune di Siena, che sono deputati per legge a fare controlli, di fare appunto i controlli su tutte le caldaie della nostra provincia, che sono ben 90.000, quindi si capisce che anche pochi punti percentuali sul miglioramento dell'efficienza delle caldaie portano ad avere un miglioramento, anche una diminuzione, soprattutto delle emissioni climalteranti. Sono state fatte delle proposte anche all'amministrazione provinciale per migliorare l'efficientamento dei propri edifici, sono state fatte proposte per 2 milioni di euro di investimenti, e in più sono stati portati ormai a compimento i progetti che verranno messi a gara per installare su tre plessi di proprietà della provincia sempre degli impianti fotovoltaici di una potenza intorno a 20 kilowatt nelle scuole di Siena, Poggi Bonzi e Montepulciano.